CORNELIUS 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 PERFETTO ASSISTENTE Mi piacciono i bambini, ma non a colazione. Io sono come loro, giocare la mia passione. Gli aiuto con i compiti, gli aiuto un po' a studiare, ma quando sono stanchi una risata gli faccio fare. CORNELIUS 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 PERFETTO ASSISTENTE Sono io CORNELIUS CORNELIUS ASSISTENTE E' del maestro Paolo, mi piace veramente. Cantare puoi suonare, ballare, recitare. Lui si che mi ha insegnato la vita ad amare. CORNELIUS CORNELIUS SIMPATICO SERPENTE CORNELIUS CORNELIUS PERFETTO ASSISTENTE Quando facciamo lezione tutto sembra perfetto, ed anche la confusione può far valere il suo effetto. Studiare con CORNELIUS è proprio molto bello. Il tempo passa in fretta, ma in fondo è sempre quello. CORNELIUS CORNELIUS SIMPATICO SERPENTE CORNELIUS CORNELIUS PERFETTO ASSISTENTE CORNELIUS 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 PERFETTO ASSISTENTE Ciao a tutti, io sono Paolo il maestro Paolo e voglio presentarvi il mio nuovo assistente musicale Cornelius vieni Cornelius, vieni, vieni vieni, non aver paura vieni, non aver paura, dai Cornelius, è un po' timido, sapete aio, 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 aia, non mangiarmi il dito dai saluta i bambini, saluta i bambini lì ma non sono lì i bambini, i bambini casomai stanno dietro il vetro ma dove fai, devi salutare i bambini, dai, su, saluta i bambini ciao ciao Ganghini, io sono Cornelius, l'assistente musicale del maestro Paolo cittadino a Cristo, ciao ciao bravissimo Cornelius, grazie mille ciao a tutti grazie 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 a tutti